Oggi per noi è un giorno fantastico e questo praticamente ci ripaga di tutto il lavoro fatto questo inverno perché abbiamo veramente lavorato tanto. Non ho molte cose da dire ma voglio solo ringraziare in particolar modo Ayrton perché secondo me quest'anno è stato praticamente fantastico, è stato superiore a tutti e a lui veramente va il mio ringraziamento di cuore. Poi voglio ringraziare anche tutta la mia squadra perché ha veramente fatto un grande lavoro come al solito sono stati bravissimi, professionali e questo diciamo che anche grazie a loro si è riusciti a vincere questo titolo. Oltre loro voglio comunque ringraziare BMW, BMW Italia nella persona di Andrea Buzzoni e di tutti i suoi ragazzi e niente sono molto onorato di aver regalato a BMW questo campionato e dedico a loro e a tutti i nostri sponsor questo successo perché hanno praticamente creduto in noi in inizio stagione.